Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andrelink e bentornati su Bakugan Campione di Vestroia L'ultima volta ci siamo lasciati praticamente in questo posto E abbiamo scoperto che c'è stato un altro terremoto sicuramente provocato da Preston, come ti sbagli E siamo andati in questa villa e abbiamo trovato questo passaggio segreto Abbiamo affrontato uno dei costruttori qui, uno degli addetti ai lavori E probabilmente dovrò affrontarne altri per riuscire a passare e arrivare dove devo arrivare Ok, attenzione Ma che diavolo? Sapevo che non dovevamo fidarci di un muccio di ragazzini per fare le cose come si deve Combatti A, sì ma non posso schipparla Combattere combatto, però ragazzi io le lotte queste qui le taglio Faccio vedere solo quelle più importanti alla fine Queste qui sono di contorno e le ho già fatte vedere ampiamente diverse volte le lotte Quindi farle vedere di continuo non è che sia di molta utilità Dunque sono riuscito a passare senza farmi vedere qui da queste guardie Tranne questa che mi ha visto e mi ha voluto sfidare E invece quest'altra no, però io evito Quindi andiamo a parlare un po' con questo tipo Ok, piglia Il patto era che voi ragazzi ci aiutassero a distrarre le persone dal terremoto e in cambio Ne avrebbero dato Bakugan più potenti Il figlio del capo, presto, non è un tuo amico? Atteniti al programma e dacci una mano Fega Ma perché mi devi sfidare? È mio amico? Sì, allora ti sfido Ma perché? La logica Non mi fa arrabbiare il fatto che mi vuole sfidare Ma la logica dietro questa È tuo amico? Sì, allora ti sfido Ha ragione perché sono... Ah, perché sono un amico Dice, sei stupido Allora, allora ti giustifico Guarda, hai ragione, guarda Hai ragione Perfetto Oh, c'è il capo, non ne sarà contento Scappa Come corre? Cosa fa? Scivolava via Quello era il moonwalk, sicuramente Ci sono entrosi in casa Chiamo i rinforzi Ma perché? E sparò la casa per scoprire cosa sta nascondendo Mmm, ok Abbiamo dei camion Qui, dei furgoni Ma camion Non c'è nessun altro qui, vero? Meno male Almeno posso girare No Non posso girare indisturbato Manco per l'anticamera del cervello Qui non ci posso andare Cosa vuole fare? Tipo una mega piscina? Eh, sembra, eh Oddio, forse un canale sotterraneo Di qualche tipo Tieni quella cosa sotto controllo Questa è la profondità massima a cui abbiamo scavato Ed è più potente che io abbia mai visto Non credo che ci ascolterà Il mio baku controller non funziona Ci serve assistenza dalla centrale della parasol E ancora carico dell'energia di Vestronia Sono sempre così la prima volta che emergono La procedura di contenimento sta fallendo Ci serve un bakugan di pari potenza Salve Ehi tu, cosa ci fai qui? No No, no Tocca a sfidare tutti Allora, va a finire che qui non c'è Vestron Quindi faccio una partita Giusto per farla bella lunga Ok? E non abuserò Dell'attacco di squadra Ne farò uno Ne farò giusto uno Perché anche gli avversari Fanno attacchi di squadra Quindi Vorrei stare tranquillo E non farlo fare a loro Beh, guarda che sleppe Che tirano accidenti Sono fortissimi Oh no Corruzione del pensiero Corromperà i miei pensieri Puri e casti Ora avrò solo pensieri Rivolte a donnine Stai guardando le donnine spogliatelle? No, babba Checchino Ecco qua un bel dragonoid Raga, sto dragonoid Credo che sia il mio bakugan preferito È troppo bello Però in versione Darkus Perché la versione Darkus È qualcosa di fenomenale Davvero bello L'ho visto Cioè, gli avversari ce l'hanno Tra l'altro L'altra volta La teoria su 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 Preston Che è corrotto dai bakugan Darkus Era tutta quanta una battuta, no? Però Se veramente Veramente Va a finire così Io Wow Non lo so Alla fine i bakugan sono Buoni e cattivi Credo dipenda da come Uno li Li usa Come i pokemon Digimon E quant'altro Che gli facciamo? Che gli facciamo? Le spade? Facciamo le spade Dov'è? Dov'è? Eccolo Dai che si carica per le spade Dai 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 Prendo io Ah fregato Ecco le spade No Attacco di squadra Ma ha premuto B Quindi anche se premiamo B Fara attacco di squadra Vabbè Saperlo Sconfitto anche questo tipo Noi però effettivamente sappiamo che c'è Preston qui Perché Ci ha detto Tu sei amico di Preston Giusto? Quindi Devi fare la guardia O cose così Il che vuol dire che Preston è qui E' opera di Pre Insomma della famiglia di Preston Dobbiamo riportare tutta questa attrezzatura alla centrale della Parasol Finiti i lavori Darkus Gillator Wey Però cerco Certo Attorno al nascondiglio per discutere degli eventi di Elena Heights Cosa? Quindi Questo è quanto succede qui? Ehi Attenzione Saida Link Stai bene? Cosa è successo? Saida Non lo so esattamente Ma credo di cominciare a capire cosa sta succedendo Sembra che la Parasol stia rivellando per ottenere Bakugan ancora più potenti Beh Questo spiegherebbe terremoti Ma mi chiedo come facciano a trovare nuovi Bakugan Qualsiasi cosa stia succedendo Questo Bakugan era davvero potente Uno degli addetti della Parasol ha detto qualcosa a proposito dell'energia di Vestronia Sai di cosa si tratta? Vestronia? Mai sentito a nominare Ehi Io so cos'è Vestronia E' il mondo d'origine di Bakugan Mi manca molto Ma questo Barbetra è la versione iniziale Non è quello Quello che ho ora Il mondo d'origine di Bakugan E cosa ha a che fare con le trivelle? Vorrei potervi dire di più Ricordo solo di essere entrato in ibernazione Risvegliandomi solo quando mi hai trovato Beh Sembra che la Parasol stia usando le trivelle per trovare Bakugan in qualche modo Perché dovrebbero fare una cosa del genere? Il padre di Miguel lavora per la Parasol Dovremmo scoprire se sa qualcosa Incontriamo la nascondiglio e scopriamo se ha qualche idea di cosa stia succedendo Allora Eccoci qui Miguel Hai sentito del terremoto? Ho appena letto qualcosa riguardo Stavo per venire a cercarvi Quindi dove sarà la nostra prossima indagine? Beh ecco Miguel Dobbiamo parlare con tuo padre E perché? Lavoro in una centrale elettrica Non è un geologo Vedi Crediamo che di te i terremoti ci sia la Parasol Mentre Link stava cercando Preston Abbiamo scoperto che i terremoti sono provocati da trivelle giganti E che la Parasol è coinvolta Non riesco a credere che siano la casa o le terremoti Non abbiamo le idee molto chiare Anche stavolta c'era un Bakugan potentissimo C'è sotto qualcosa Un Bakugan potentissimo? È davvero strano Va bene andiamo a parlargli Ah ma vedi Preston sta cercando i Bakugan più potenti Ecco Qual è il suo scopo? Trovare i Bakugan più forti Ciao tesoro Che state facendo tutti amici? Mamma papà è a casa? Non ho andato al lavoro poco dopo il terremoto Non andarlo a disturbare alla centrale della città vecchia E la città vecchia è vecchia giustamente Wow Che posto Pittoresco Attenzione Questa è la città vecchia Ci sono molte fabbriche centrali Ma anche dei negozietti niente male Dunque la fabbrica del padre è a Ovest Ah ok Io già mi sono fatto un giretto per vedere com'era la città Sì 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 Ho capito ho capito No ingresso palestra Cos'è una palestra? No se non è lì allora Qua da ste parti qua Forse è qui Ah Ho capito Quaggiù Ah lì in fondo certo Attenzione Cos'è? What? Ma qui c'era qualcosa che luccicava ho visto Ah ma qui c'è un ponte Ah quindi qui è un'altra parte di città Allora forse potrebbe essere qui la fabbrica Interesting Sto posto raga è davvero grande eh Devo ammetterlo Non me l'aspettavo così grande C'è molto da esplorare Ah attenzione un piccoletto Forse quando avrete finito Sua mamma arriverà A aprire il cance Cosa? Devo combattere contro un bambino Mia mamma doveva accompagnarmi all'allenamento al club di combattimento ma in ritardo Il torneo per le regionali della città vecchia inizierà presto E vabbè comunque sia Io sto cercando il papà di un amico E dobbiamo combattere con questo bambino per aspettare che arrivi sua madre ad aprire il cancello Mi sfugge qualcosa No vabbè questo è bello pure Accidenti a lui Tutti i Pyrus Mio Dio Titan Axel Tower Ma che è? Figata Bellissimo Ma che roba è? Però ragazzi il piccoletto si difende bene Ha dei bei Bakugan Sono dei Titan Non sono Mica Cotica Ce la farà la mamma a muovere e aprire il cancello Che dici? Trova la guardia e scopri se può aprirti il cancello Ah ok queste guardie qui intendi Tu? Mi annoio Vieni apri la porta a me allora Ma insomma Ah ma è arrivato Ah ma questa è comparsa ora Farei qualsiasi cosa per annusare ancora un Giglio Tigrato mentre sono qui senza potermi muovere Forse un fior di Central Park spronerà la guardia della parasol ad aiutarti Io non ho parole È questo vero? Giglio Tigrato Oh e anche un Ventus Centipod Tanto che c'eravamo Dici sai Vicino a un fiore c'è un bruco no? Ok Perfetto Mi fa molto piacere Devo portargli anche la limonata Il problema è che voi vedete tutto quanto tagliato ma io devo giocarmelo Ehm caro Oh basta eh Oh dopo questa Ah Ah ecco Ora ha finito Perfetto Meno male Addio parasol Addio città vecchia Addio questa stupida chiave magnetica Ma non è vero mai Ma non è Ma che 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 Non succederebbe mai una cosa del genere Ma scherziamo? Ma non succederebbe mai una cosa del genere Cioè no Accesso Benvenuto signor Dupré Benvenuto signor Dupré Sul serio? Attenzione Oh Oh Ho premuto cose Ok Eh no ma da Ma la guardia non mi ha visto Ma stava girata Ma stava girata E in quel momento Andralink venne avvolto da una luce divina Che lo fermò dal proferire ingiurie contro divinità della dubbia esistenza Cerco di stare attento contro le guardie perché non voglio perdere tempo Devo essere sincero non c'ho voglia di scontrarmi con tutte quante le guardie Speriamo di essere sterti più possibile Sei qui per il tirocinio e se ne va Ma co... Allora c'è questo che fa un giro strano So come evitarlo Devo aspettare che passi e se ne va Perché voglio prendere quello che c'è qui Che è 150 Bcoin In ottimo Ok Mi pare che sia via libera mi pare Ok chiudiamo anche qui un altro tubicino Si ho accettato tipo degli incarichi nel frattempo Mentre giravo la città Ok io tra l'altro prima ho attivato questo interruttore qui E spero che servisse appunto di essere attivato Se non serviva Beh l'ho fatto comunque Ok quella la guardia se n'è andata Quindi posso andare qui Ok Attiviamo anche quest'altro interruttore Fatto andiamo Non sapevamo neanche che c'era bisogno di attivare l'interruttore E entriamo Uhuh ci siamo Siamo all'interno Uh attenzione è pericoloso qui raga Ciao Wow un combattente Il nostro capo mi ha appena dato questo Bakugan Combattiamo E invece non devo per forza combattere signorina Mi dispiace per lei Pizza Ah prendo la pizza Ah 150 Bcoin La gente lascia i soldi ok Me li prendo io Melizza Cosa sta succedendo lì Cos'è quel Bakugan Cos'è quel mostro Ma chi tiene una trivella lì sopra il tavolo Dai Attenzione chi è quella Tutta quanta sonnata Sembra che in qualche modo Vestronia sia il pianeta natale di Bakugan Dentro al nostro E com'è possibile Come può si stare all'interno della terra E questo è il bello Sembra provenire da un'altra dimensione Per qualche motivo vive all'interno del nostro pianeta Ad ogni modo sembra che condivida lo spazio più che occuparlo Ecco perché sono qui Questa è la mia nuova casa O meglio la mia nuova e vecchia casa E' stata questa la causa di quella grande collisione Il mondo di Bakugan si è fuso con il nostro Salve Wow un intruso Allarme rosso Così Va bene Combattiamo lo scienziato E poi terminiamo l'episodio Oh Titan Centipod Bello Bello Tempesta Darkus Mi attiva il sacrificio E con il sacrificio attivato Io posso fare molti Molti più danni Vuoi vedere? Guarda un po' Urlo di Darkus E ti faccio tantissimi danni Zio Proprio penetrazione Ti distruggo tutto Mamma mia 309 Uh che bello Non so perché sto parlando con questo accento strano Cambiamo baco Dragonoid Palla di fuoco E' super efficace a quanto pare Si fuoco contro fuoco raga Eh c'ho la debolezza E fa un botto di danni Devo rivedere anche io gli attacchi Patata bollente Purge Purga Non so cosa però Ah forse mi disattiva completamente L'energia Ma non ce l'ho Quindi cosa prosciuga Che non ho nulla Un bel attacco di squadra Per distruggergli almeno Un Bakugan Yeah Eh ragazzi Bisogna iniziare a fare così Perché sennò le lotte Non finiscono più Dico sul serio Sono molto molto lunghe Poi più vai avanti con la vita Devo anche però rivedere i miei attacchi Perché vedo che loro fanno molti danni Stranamente Stranamente fanno molti danni Tipo 500 punti danno Come se nulla fosse Boh Cosa Poi bruciatura Che fa danni di continuo E' un po' una seccatura Devo ammettere Ah raffica di spade titan Ok quindi devo comprarle Questi attacchi Eh si raga Mi tocca comprarli L'unico motivo per cui potrei fare Altri combattimenti nel gioco E' proprio per Appunto Fare più soldi E quindi comprare nuove abilità Per i miei Bakugan Quindi Si Devo fare un po' di combattimenti extra Off screen Eh facciamoli Comunque ripeto Qui termina il video Perché davvero A quanto pare devo Davvero comprare abilità Per i miei Bakugan Altrimenti non posso Non posso andare avanti così Si alcune le vinco Anche eh Però Barbetra sta per evolversi Anche Dragonoid E qui davvero allora servono Nuove abilità Presto Chiami le guardie Pala di fuoco Maximus Ah quella Quella dopo Titan forse Benedizione Pyrus Vortice di fuoco Wow Mentre cerchi papà di Miguel Ok Esco Così magari Salva anche la partita Ragazzi Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito il video Vi ricordo ovviamente In descrizione Il link per Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre A prossimo video Bye bye Bye